Stefano Graziano, consigliere regionale del PD, è un'importante occasione questa di incontro per fare il punto della situazione sia su scala nazionale che regionale, in particolare com'è questo rapporto a volte controverso con i 5 Stelle? Io sono da sempre fautore dell'avvertura del dialogo con il Movimento 5 Stelle, mi pare evidente che c'è un quadro politico chiaro cioè da una parte c'è un centrodestra con la Liga e dall'altro l'organizzazione del campo deve essere fatta da tutti quelli che non vogliono il sovranismo, il populismo e sono contro l'Europa, quindi tutti quelli che sono per l'Europa, che sono per rendere una coalizione progressista, democratica e liberale devono stare di qua, quindi mi pare evidente che il PD e i 5 Stelle debbano parlare. Chi la pensa diversamente penso che sia fuori dalla realtà. A livello regionale è un'importante conquista l'uscita dal commissariamento, come puoi appunto commentare questa situazione? Io penso che sia un grande risultato politico l'uscita dal commissariamento dopo 10 anni di commissariamento della sanità è un grande successo, un grande risultato che significa dare più forza ai servizi per il cittadino, per la sanità, per la campania poter fare degli investimenti che fino ad oggi non era possibile fare ma soprattutto voglio ringraziare tutti gli operatori del settore della sanità che hanno fatto uno sforzo enorme lavorando in condizioni difficili negli ultimi 10 anni con 14.000 persone in meno, dando comunque il servizio sanitario al cittadino. In prospettiva invece delle prossime elezioni regionali, come vi siete organizzati, come valuta la ricandidatura di De Luca ma soprattutto alla luce delle controversie che spesso vengono fuori anche dal PD Casertano, come vi regolerete? Io penso che dobbiamo lavorare per vincere le elezioni di nuovo. Abbiamo fatto un grande lavoro in 5 anni, siamo qui per rimettere in sesto la regione, ci sono tutte le condizioni se tutti gli attori dei protagonisti alternativi alla destra demagogica e populista sovranista della Lega se non vogliamo far vincere la Lega io penso che se tutti insieme ci si mettono a partire dalla presidenza De Luca probabilmente il risultato si otterrà.